Buongiorno a tutti, oggi si registra la prima puntata di Amici, sono le 8.50, io ho appuntamento dal parrucchiere alle 9.45, ci arriverò con questo traspico, proviamo, vediamo. 9.48, ci abbiamo messo praticamente un'ora, ce l'abbiamo. 10.48, ci abbiamo messo praticamente un'ora, ce l'abbiamo. E adesso direzione studio, abbiamo convocazione alle 11.30, dovremmo farcela spero. Vorrei dirti guarda l'orario, non ho corso, 11.27. Mi hanno fregato tutto, perché qui non c'è nessuno, parcheggiato. Andiamo ai primi. Allora il prossimo step è fare il tampone rapido, ma questo non ve lo faccio vedere perché tanto sapete come funziona, non è neanche così interessante. Apparentemente sembra un momento di grande tranquillità, ma vi assicuro che non lo è, perché da questo momento in poi faremo un riunione con gli autori, scelta del vestito, trucco e se ci scappa pure un palazzetto proprio di corsa di corsa. Diciamo che abbiamo come tempo disponibile un palitore, che dite ce la facciamo? Outfit, ho due opzioni possibili, questa che diciamo è un po' la coda dell'estate, e poi soprattutto è molto chiara, quindi mi piace molto, e poi c'è questa invece che è tutta colore, con una camicia bellissima. Voi che dite? Non mi trovo. Che dite? E questo è il secondo. Io ho già deciso, però voglio sapere qual è il vostro preferito, scrivetemelo nei commenti, intanto poi la prima parte mi vedete più, eh. Quando non c'è quella roba lì praticamente questo camerino è spoglio completamente, sì sì. E' arrivato il fatidico momento dello zio e le caramelle, perché noi portiamo sempre il cestino delle caramelle sotto, perché insomma, se qualcuno vuole un po' di dolce, noi a disposizione di tutto il cast. Ciao! Ciao! siamo pronti pronti ragazzi stiamo per cominciare come al solito o ora ci stiamo dirigendo verso gli studi si mette il microfono e si che pigacione ci vede che abbiamo finito la prima puntata è finita io sono finita voi direte ma perché sei finita che sei stata seduta per tre ore facendo praticamente nulla perché io vivo tutte le emozioni e le tensioni dei ragazzi per cui un po ogni volta come se fossi su quel palco però la nuova classe c'è mi farà piacere sapere se ti piace se siete contenti chi è il vostro preferito per quanto mi riguarda io ancora non so da chi è composta la classe nel senso che l'unico sicuro è che che ho per il caso della mia classe è nel DG sono molto contenta di lui per quanto riguarda gli altri dovrò aspettare dovrete aspettare anche voi prossimi giorni perché ci sono un po di allievi contesi con gli altri professori quindi vediamo però sono molto molto contenta non vedevo l'ora di ricominciare ci sono un po di allievi conti ciao 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 ciao